Bevi l'acqua Ho studiato Qui la sua patologia è definita Washed Terror Guardi ci deve essere un errore Io pulisco solamente Le cose che mi stanno intorno Gli oggetti La natura, le persone Si ma può smetterla di pulirmi per piacere Cos'è sta roba? No, se lei si rende conto di cose Che possa, che possa Non si avvicini, cosa spruzza? Sticina! Basta! Mi spartivo delle persone, dei microbi Io ho studiato, sono un'infermiera Sì ma la prossima volta non compri un disinfettante così economico Eh tesoro, guardi Io vado da il must per le casalinghe Ci sono degli ottimi igienizzanti Posso ricordarvi che siamo qui per altri motivi Al di là dello shopping? Lo consiglio anche a lei Non si permetta Quindi, signorina bevi l'acqua Ecco Perché lei ha questa avversione per l'acqua Avversione? L'acqua è una cosa inutile Perché usarla? Ci sono degli ottimi prodotti per sostituire l'acqua Ad esempio Lo shampoo Negazione Le polverine lavanti Le polverine lavanti? Le ha mai provate le polverine lavanti? Il suo paranoide multifattoriale Frequenza delle crisi Guardi, questa cosa Io non ho crisi Pulisco Pulisco il mio corpo E ciò che mi intorno Con ottimi prodotti Non ho crisi Io non ho crisi E il precedente ricovero che ha subito quattro anni fa? Ma guardi, lì c'è stato un errore Le sembra che io possa avere crisi? Io non ho crisi Ma lei assume dei farmaci ansiolitici? No, guardi Io non assumo farmaci ansiolitici Io compro solamente degli ottimi prodotti per igienizzare E comunque, le ripeto Sono un'infermiera Ho la qualifica L'insgregazione Unirante dei consigli Dispercezioni Senso Tuttonie Ah, ma hai fatto un check-up della struttura neurofunzionale? Ma guardi Io non ho crisi Io non ho crisi Le sembra che io possa avere delle crisi? Con espulsione oblativa del bisogno Una casa Beh, mi chiedo Ma quella casa? E? Igenizzata? Una bottiglia d'acqua No, l'acqua no L'acqua no La prego L'acqua no Chiavi Eh, mi scusi Mi scusi, mi scusi Tutti i microbi poggiati su quelle chiavi Le metta via anche quelle Sono costretta? Ma A questo punto Non è necessario l'intervento degli infermieri No, io sono l'infermiera Io questa è già stretta Non è stato un casino State buoni Io non ho crisi Questo gesto Le mani le ha igienizzate? Cosa ha toccato prima? Se l'hai mai chiesto? Per relazione oggettuale pre-ingeditale transitiva asimilibrica con ritardo psichico Sì 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 Sì